Sono state oltre 300 le firme raccolte in pochi giorni a Pistoia tra gli abitanti di Ponte Lungo e Bonelle per chiedere il ripristino dell'acqua gassata alle fontanelle pubbliche. Sino a qualche tempo fa erano 5 quelle presenti sul territorio comunale dove accanto all'acqua liscia veniva erogata anche quella gassata con un costo complessivo sul bilancio di circa 24.000 euro l'anno. Un servizio valutato positivamente dalla gente come stato sottolineato dai promotori delle potizioni in occasione di una conferenza stampa che si è tenuta al giardino di Andrea a Ponte Lungo dove alcuni anni fa fu sistemato l'erogatore. Era un servizio importante, una scelta che con pochissimi soldi probabilmente l'amministrazione comunale ha voluto tagliare. Io penso che l'amministrazione comunale voglia guardare il lucignero e buttare via l'olio. È una forma di economia che non appartiene a questa visione. Pensiamo soltanto che da quando è stata cessata l'erogazione dell'acqua gassata a Bonelli l'affluenza al Fontanello si è dimezzata praticamente perché c'è uno scontento diffuso per un servizio che certamente non è in cima alla scala delle priorità. Però è un servizio che era ben accolto. È un fatto anche di conservazione ambientale perché ovviamente in questa maniera togliendo l'acqua frizzante si invoglia le persone ad andare a comprarla quindi a consumare contenitori che poi verranno buttati, insomma, in pratica. Invece avendo la possibilità di attingere l'acqua già frizzante qui uno usa i suoi contenitori e li conserva per poterli riempire poi successivamente. Dai promotori delle petizioni quindi è arrivata una proposta al Comune di Pistoia quella di ripristinare il servizio dell'acqua gassata a pagamento in modo da ripianare tutti i costi che ci possono essere per questo servizio per cui non vengano accampate scuse o storie perché in tantissimi comuni della Toscana è un servizio che si eroga quello dell'acqua gassata a pagamento giustamente e quindi in modo che i conti del bilancio comunale siano perfettamente ripianati, siano perfettamente a posto. Il tema prossimamente arriverà poi tra i banchi di Palazzo di Giano su iniziativa del Partito Democratico che ha annunciato un emendamento al bilancio comunale per chiedere il ripristino del servizio.